buongiorno ben trovati sul mio canale in questo nuovo video vedremo altre domande di economia per concorsi della pubblica amministrazione una diminuzione della spesa autonoma provoca uno spostamento verso il basso della curva di domanda e una diminuzione più che proporzionale della produzione di equilibrio una legislazione antitrust meno restrittiva consente alle imprese di colludere più facilmente aumentare il proprio potere di mercato che effetti determinerebbe invece una legislazione antitrust più restrittiva sul mercato di lavoro una diminuzione del tasso naturale di occupazione a seguito della legislazione del mercato applicato dalle imprese una politica fiscale espansiva in economia aperta con tassi di cambio flessibili provoca un aumento della produzione se l'espansione fiscale parzialmente compensata da una stretta monetaria ne risulta anche un aumento del tasso di interesse da un apprezzamento del tasso di cambio una politica fiscale restrittiva provoca uno spostamento della curva IS verso sinistra e nessuno spostamento della curva LM una politica monetaria restrittiva in economia aperta con tassi di cambio flessibili porta a una riduzione della produzione un aumento di tasso di interesse e un apprezzamento una riduzione dell'istavanzo porta sempre a una riduzione del vestimento potrebbe come non potrebbe tutto dipende dalla risposta della politica monetaria una variabile che astrae dal livello dei prezzi e si concretizza sul numero di beni una variabile reale un'alleanza strategica è un'alleanza tra due o più imprese che collaborano formalmente e informalmente al seguimento di un obiettivo desiderabile per entrambi in particolare la preparazione mediana nella quale due o più imprese danno vita a un'impresa indipendente di proprietà congiunta e dominata John Venture un'impresa oligopolistica che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissimi importe si riguarda come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni quali dei seguenti modelli si basa sui posti rivali continueranno a produrre una determinata quantità il modello di concorrenti nel modello Bernand gli oligopolisti continuano ad abbassare i prezzi fino ad annullare i profitti supernormali un'impresa oligopolista che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissime ipotesi riguardo a come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni quali dei seguenti modelli si basa sui posti rivali continueranno a produrre una determinata quantità il modello di concorrenti un'impresa oligopolistica che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissime ipotesi riguardo a come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni quale teoria si basa sulla dubbio ipotesi che a se un oligopolista abbassa il prezzo i concorrenti si sentono costretti a fare altrettanto per evitare di perdere i clienti a favore della prima impresa b se un oligopolista abbassa il prezzo tra via i concorrenti non seguono il suo esempio perché tenendo i prezzi costanti possono attrarre i clienti presi dalla prima impresa la teoria della domanda ad angolo un'impresa oligopolistica che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissime ipotesi riguardo a come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni nel modello Cournotto ciascuna impresa ha deciso del prezzo di applicare la quantità da produrre ipotizzando che il concorrente produrrà una determinata quantità uno spostamento della curva di domanda viene definito per azione della domanda mentre un movimento lungo la curva di domanda è descritto come per azione della quantità domandata produrrà uno spostamento del primo tipo verso destra la crescita demografica uno spostamento della curva di domanda viene definito per azione della domanda mentre un movimento lungo la curva di domanda è descritto come variazione della quantità domandata produrrà uno spostamento del primo verso destra un aumento del livello del reddito per i beni normali uno spostamento della curva di domanda viene definito variazione della domanda mentre un movimento lungo la curva di domanda è descritto come variazione della quantità domandata produrrà uno spostamento per il primo verso sinistra la diminuzione dei prezzi dei beni sostitutivi uno spostamento della curva di domanda viene definito variazione della domanda mentre un movimento lungo la curva di domanda è descritto come variazione della quantità domandata produrrà uno spostamento del primo tipo verso destra l'aspettativa da parte dei consumatori di un aumento dei prezzi uno spostamento della curva di domanda viene definito variazione della domanda mentre un movimento lungo la curva di domanda è descritto come variazione della quantità domandata produrrà uno spostamento del primo tipo verso sinistra l'aumento del livello del reddito per i beni inferiori uno spostamento della curva di domanda viene definito variazione della domanda mentre un movimento lungo la curva di domanda è descritto come variazione della quantità domandata produrrà uno spostamento del primo tipo verso destra la diminuzione dei prezzi dei beni complementari il video termina qua per altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche un asunto un asunto un asunto Grazie a tutti.